scegli il tuo personaggio che succede amico? perché sono tutti offline quei tre galliti di stimma se non do che potrei vedere cosa sta facendo ma sinceramente proposto di steam dato che ho steam come avete letto potrei portarvi dei giochi belli che non siano i quattro giochi che porto sempre fortnite, fall guys, minecraft e basta anzi fall guys manco no ma io non lo so manco io che porto su sovranana ah ma sono ah mi sono messo bugs vero la tua squadra dicevi un bacco parata proiettili per due secondi dopo essere stati respinti da un proiettile questo è livello 1 e lui è livello 7 e noi siamo entrambi livello ah siamo entrambi livello 11 mi hai raggiunto mi hai raggiunto i bugs mi sono dimenticato per l'annissima volta dopo devo cercare devo cambiare tutti i colori di tutti i personaggi perché se no non ci capisco niente quando capita quando capita le coppie di morti per esempio cosa io ho sentito Taz dire salami aspetta sai che ti dico io mi campero un attimo ti do fuori dalla scatola un panino e te lo lancio in faccia il panino il panino oltreistinto ma pure il panino è oltreistinto che ricordiamo essere lo stile della skin di Fortnite non morire comunque detto sinceramente considerato che sappiamo che ci saranno personaggi ospiti sul multiverso io spero di vedere Jonesy Fortnite Minecraft Steve che poi hanno confermato anche che faranno collaborazioni con il tratto malefico quindi potremmo vedere anche i personaggi Marla infatti no ti avevo scritto non te l'avevo scritto che avevano liccato anche Hulk però bene l'ho letto ieri sera dopo aver letto che avevano liccato Rolf ho spaccato un top il che vuol dire che oltre alle collaborazioni alla Disney le faranno pure con la Marvel che è un po' la stessa cosa ma è spugnata sul razzo lei ma che kill l'ho fatto questo diventa il perfetto YouTube Shorts ok il robot lancia d'orta il robot lancia d'orta il robot lancia d'orta il robot mi pare provenisse questo robot da Adventure Time ma non me lo ricordo ok dai lei è un tacchino è un pollo questa dai se non me e si può lanciato una dinamita ma come 3 kill siamo fatti in tutto a 3 kill quindi 1 perché l'hanno fatto la dinamita lancia un giocatore fuori dal ring 3 volte dalla base della pappa fammi fare questa cosa impostazioni grafica no interfaccia di che colore ti metto a te no il viola sono io ti metto giallo così morti lo vedo giallo colore della squadra nemica colore della squadra nemica rossa però metto uno di un colore e uno di un altro i due avversari colore del giocatore 3 il giocatore 3 lo metto verde no ah no la squadra io ho la squadra nemica verde ecco batteria così scarica come la batteria così scarica 어머 l'ho ti ma Io direi, facciamo un'altra partita e poi ci dissociamo. Scegli il tuo personaggio, già lo scelto il tuo personaggio. Lei è al quattordici. No, una al cinque e una al quattordici. Noi siamo all'undici e al quattro. No. 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 Prima squadra che lancia pure la ring quattro volte. No, ti vedo sempre con la maglietta blu. Nonostante ti ho messo gialla. Ti sai perché? Ma tu ti vedi con la maglietta gialla? Sì. E Taz lo vede di marrone o azzurro? Ma che se lo vede azzurro? Tazza, 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 tazza. No, io lo vedevo azzurro. Ah, ho capito. Il giocatore lo vede col colore normale. Gli altri lo vedono. Non è bene. Non è bene. Scendi! Io campero un attimo qua sopra e cerco qualcosa. Un toast. Gli ho sponato una cassaforte in testa. E sono morto, sì. Oh! La dissata! La dissata! Vabbè, vabbè, siamo in vantaggio. Questa è l'importante. Me la vado. Ho appena detto che siamo noi in vantaggio. Non farmene pentita. Siamo in vantaggio! Sì, non farmene. 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 Ma qua c'è ancora l'albero. È appena esploso! È appena esploso! No farmene. È esploso quando lo fissi. Perché appena diciamo qualcosa accade l'esatto opposto. Yeah! No! 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 Ma stanno in due su di me! Ma tu dove eri?! Ma stavano in due su di me, ma tu dove eri? Metti punto! Bravo! E che ho fatto 149 danni? Chi mi metto? Bugs o film? Io mi metto Batman Io mi metto Batman Io mi sono messo Batmans? Beh, adesso siamo tutti a livello 5 Hai ragione Hai proprio ragione Batman e morti Che combo, signori Che duo Che duo Ma guarda Harley Quinn Guarda Harley Quinn 726 lanci fuori dalla ring Eppure livello 14 Io quanti lanci fuori dalla ring c'ho? 72 Che comunque considerato che abbiamo giocato poco Perché io tutto agosto e luglio Non ce l'ho mostrato Ho giocato pochissimo Quelle poche volte che abbiamo giocato Quelle poche volte Io ho giocato la prima volta con te Eh! Appunto! Era la prima volta che giocavo pure per me L'avevo giusto scaricato al day one Promemoria Dentro al martello di Harley Oh! E lanciagli no? Certo! Ah! Scherzavo Avere i nemici vero di è ancora più confusionario Perché sei morto? Perché sono due su tre Fino a prova contraria Quello che ha più danni sono io Quindi stavo negroso di me Eh! Ma è sottovalutare la dottoressa Quindel Dai adesso fanno la nostra stessa Almeno queste Rischiamo il vantaggio E invece presto Non lo dire! No adesso loro devono dirlo Non lo dire! Quello su Fortnite quando Quello su Fortnite quando Ti dico Quando siamo in set e arrivassi Io ti dico Non lo dire Beh i tempi quelle Non volare! Una kill! Abbiamo una kill! Loro ne hanno tre! E tu me l'hai capito? Morty Smith! Vabbè! Signori di YouTube Io direi Che ci possiamo salutare qui Sì! A chi lo do il tosta? Vai! Gli do il tosta! Gli do a tutti! Spero che me li ridiano! Io ho dato il tosta a tutti! Non me li hanno ridati! Ti sto chiedendo! 1637 Monete Chi shoppa? Potrei prendere Shaggy Potrei prendere Shaggy Ehm Allora Shaggy Taz Garnet E basta! Chi prendo tra queste tre? Eh! Shaggy Taz Sblocca personaggio Sbloccato non ricompensa Nuovo personaggio sbloccato E signori Direi che il video Possiamo concluderlo Possiamo anche concluderlo qui Nel prossimo video Testeremo questo nuovo personaggio Appena sbloccato E come si suol dire da queste parti Signori di Twitch Ho sbagliato Questa la censura Signori di Youtube Io Mi dissocio Volevo dire Io mi dissocio